Duomo di Pordenone è gremito ieri sera per la celebrazione del Corpus Domini. Alle 20.30 è iniziata la Santa Messa, celebrata dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini. Al termine, la processione dei fedeli ha attraversato le vie del centro cittadino, fino a raggiungere la chiesa di San Giorgio. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. È una delle feste, dal punto di vista di chi crede nella religione cattolica, è uno dei momenti più importanti ed è una festa che, tra le altre cose, ha il senso del dubbio. Voi sapete il fatto di toccare il costato. Ci sono dei momenti e dei passaggi, se leggete la parola delle Pentecoste, che colpiscono proprio per l'umanità. Anche noi abbiamo un momento di dubbio in questo passaggio della crisi che coinvolge la città così difficile. Ma secondo me è proprio partecipando tutti a momenti di condivisione delle nostre identità, anche del nostro credo. Le istituzioni devono essere vicine alla gente proprio in momenti come questi che rafforziamo e cancelliamo i nostri dubbi su come andare avanti e su come verne fuori. Questo è il motivo per cui io come sindaco, proprio rappresentando l'istituzione dell'amministrazione della città, siamo presenti questa sera proprio per essere vicini alla gente e dare un segno di quanto ci teniamo, non solo a mostrarci, ma proprio a essere vicino alle persone che hanno grandi difficoltà in questo periodo e ad aiutarle a superare queste difficoltà.